L'Abruzzo necessita di una svolta. L'economia registra ancora dati in negativo. Mentre da un lato la crescita del sud si consolida, l'Abruzzo registra un calo dell'agricoltura e della produzione industriale del 2,2%. Così, nonostante la regione abbia i livelli di produzione di ricchezza più alti rispetto al resto del mezzogiorno, il prodotto interno lordo è in diminuzione dello 0,2%. Maggiore è la preoccupazione se consideriamo che al calo della produzione industriale corrisponde nel trimestre del 2017 una pesante flessione degli occupati del 3,7%, mentre aumenta il tasso di disoccupazione all'1,4%. Secondo lo Svimez, questi dati sono influenzati dalle politiche adottate nel 2005, che hanno condizionato negativamente il mercato del lavoro. Le aziende aumentano così le assunzioni part-time, favorendo la crescita di un tessuto industriale fragile. Questo quadro fa riflettere su come la crescita sia fragile, se non è sostenuta da un tessuto industriale solido, commenta Michele Lombardo, segretario generale UIL Abruzzo. Secondo il sindacato, l'Abruzzo deve migliorare la sua capacità progettuale, adottando tutti i mezzi che ha a disposizione l'amministrazione pubblica abruzzese, a partire dal master plan e continuando con il patto per lo sviluppo e l'utilizzo dei fondi a disposizione del decreto mezzogiorno.